Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPLI per lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze, un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione mare, sempre per lavori in direzione Firenze un chilometro di coda tra San Mignato ed Empoli Ovest e un chilometro di coda in direzione mare per incidente tra Santa Croce e Montopoli. Sulla A1 per traffico intenso ci sono code in direzione Roma tra Aglio e Calenzano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 398 via Valdicornia all'altezza del chilometro 11 e 500 restringimento di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!